Bella serata, proprio una bella serata, e poi gli amici ti tirano su, si parla, si canta, si ride, che risate si fa quando si ride. Vabbè, spogliamoci, ma che faccio, spalle curve, gambe magre, e queste mutande, pervinca, pervinca o fucsia, vabbè, non importa. Questa volta, va a finire che lo faccia davvero, ma sì, basta, bisogna farla finita, magari davanti allo specchio, sì, nudo, via anche la mutande. Ecco, questo sono io, non so neanche che faccia avrò con gli occhi chiusi, i miei specchi non servono a niente, non riesco a fregarlo. Vabbè, non importa. Questa volta mi ammazzo davvero. Mi ricordo che una volta volevo ammazzarmi per amore. Mi aveva detto che non mi amava più. Un attimo prima che gli ero dicessi io, maledizione, quel tanto che basta per farti impazzire. Ti senti escluso, abbandonato, e lei non si accorge neanche dell'ingiustizia che ti ha fatto. E tu ti ammazzi. Così impara. E dopo ti amerà per tutta la vita. La subua. Suicidio. Troppo emotivo. Guarda che faccia. Non c'ho mica la faccia di uno che soffre. È il mondo. Suicidio a freddo. Ricontro. Pum! E tutto cambia. E il mondo, fino a un attimo prima, ha tremendo stile contro di te, viene subito a rotolarsi i tuoi piedi, come una palla docile, sorgnona, scodinzolante, affettuosa. Un cocker. Peccato che poi non c'hai la soddisfazione di vederlo, il cocker. Quasi quasi mi rivesto. Vado da Giuseppe. Giuseppe è sensibile. So già cosa mi dice. Ci sono mille modi di rinteressarsi alla vita. Lui ci crede ciecamente alle passioni. Mille modi! C'è gente che fotografa i rapaci nei loro nidi e fa dei corsi meravigliosi per impadronirsi di queste tecniche speciali. Ci sono davvero questi corsi. C'è tutto. No, non devo andare da Giuseppe. Non posso distrarmi con la fotografia. Siamo così futili che le distrazioni ci possono impedire di ammazzarci. No, meglio Atos. Sì, Atos. Non sta mica a tirarmi su di morale quei soliti discorsi sulla vita. È troppo intelligente, obiettivo, dai. Vado lì, gli racconto tutto. Tutto tutto fino alla fine. Ecco, lo vedi anche tu. Sono un fallito. E lui Sì! E mi indica la scogliera. Sto deficiente, insensibile. Ma che si ammazzi lui. E poi la scogliera. Casomai il modo me lo scelgo io. Un modo che sia mio. Un modo che sia giusto per... Bisogna essere prudenti quando ci si ammazza. Se no si fanno delle figure. La scogliera. La scogliera va bene per Bergman. Nordico. Religioso. Già. Come si ammazzerà la gente importante. Lo dico, quelli famosi. Non so per dire... Barbato. Andrea Barbato. Scrive l'ultima cartolina. Scrive l'ultima cartolina. E... Si svena. Due gocce di sangue. E la dell'era? Francesca. Tutta nuda. Uno spillino. Psss. Più niente. E Lucio Battisti? A fare i spenti nella notte. Questa era facile. E Craxi? Lo vedo. Una sfilata. Macchina scoperta. Lui sorride alla folla. Paga un sicario. Martelli. Dalla finestra... Pum! Tra le braccia della moglie. Come un presidente. E Costanzo? Maurizio Costanzo? La cravatta. Dal nodo. E se va bene a me? E Cossiga? Cossiga. In diretta, in televisione, certo. Esterna due parole. Quattro. Venti cazzate. Poi tanto Quirinale smentisce. Arriva Galloni con il calice. Ssss. La cicuta. E sulla sua tomba? Solo Gladioli. E Andreotti? Giulio. Andreotti. Non c'ho l'immagine. Ma lo vedi Andreotti? Quello lì non si ammazza mica. Bisognerà suicidarlo. E io? Con questa faccia. Questa cameretta. Queste mutande. Potrei buttarmi sotto un... No. Vecchio. Vecchio esteticamente. Oppure potrei... No. Non va bene. Ma possibile che sia tutto vecchio? Forse oggi esteticamente mi rimetto gli slip per vinca. Mi rivesto. Esco. E vedremo come va a finire. C'è una fine per tutto. E non è detto che sia sempre la morte. Vecchio. Vecchio. Vecchio.